Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo video, un saluto come sempre da Max e non perdiamoci la strigliata di Maria De Filippi perché è successa in diretta tv. E allora è stata una puntata densa di colpi di scena e momenti che sicuramente resteranno abbastanza impressi nella mente dei fan del programma. Protagonisti indiscussi di un siparietto in diretta tv, Maria De Filippi e Teoma Mucari, l'accoppiata direi vincente. Allora capiamo cosa è successo però. Allora Maria De Filippi rimprovera Teoma Mucari e lo fa in diretta. Apprezzata anche nel ruolo di giudice a Tusilke Valles, Maria De Filippi non fa che rivelarsi nella spontaneità che l'ha sempre contraddistinta. Questo è il suo carattere, questo è il suo essere. E il botta risposta con il collega giudice è stato inevitabile. Tutto sarebbe accaduto poco dopo l'esibizione degli Arte Algo, questo è il nome. Stando a quanto riportato su Gossip TV, dietro questo siparietto tra Maria De Filippi e Teoma Mucari potrebbe esserci tranquillamente dell'altro. E il motivo sembra essere abbastanza chiaro, ma andiamo con ordine così lo capiamo meglio. Poco dopo l'esibizione degli Arte Algo, Teoma Mucari sarebbe intervenuto usando alcuni termini tecnici di non facile comprensione che capiva magari soltanto lui. A quel punto Maria ha detto la sua ai microfoni accesi senza nessun tipo di paura, dicendo ragazzi mi preme dirvi che quando parla così scherza. Queste sono state appunto le parole di Maria dopo aver esortato a non prestare troppa attenzione alle parole di Teo, che non si capiva che cosa stesse dicendo. Parole che avrebbero trascinato anche il parere concorde di Gerry Scotti che ha detto sì, è un percorso di recupero, muy difícil, dicendo insomma che era difficile a modo suo, un vero e proprio rimprovero, o almeno così si evince dal sito, dietro al quale potrebbe nascondersi un motivo preciso, posto che tra i colleghi. Matteo Mucari sembra essere quello maggiormente preso di mira da Queen Mary, forse perché la conduttrice tende a stravedere meno nei suoi riguardi, chi lo sa, potrebbe essere un'eventualità, ma è soltanto un'ipotesi, signori. Matusikevales, un altro siparietto avrebbe attirato l'attenzione di tanti, cioè quello tra Rudy Zerbi e Michael Monkaus. Oh, quanto tempo sprechiamo ogni giorno lavandoci, un sacco di tempo. E questa è stata la presentazione di questo Michael che ha presentato questo oggetto particolare di cui ci ha anche studiato per anni, insomma. E infatti si chiama il body wash, già capiamo insomma che si tratta di lavaggio del corpo, no? Per capire di cosa si tratta dobbiamo ascoltare bene le parole di Michael che dice fa tutto, dalle unghie ai vestiti, lava tutto. E questa sarà la spiegazione molto breve e coincisa da parte dell'inventore. A quel punto Rudy Zerbi si è sottoposto al test, ma evidentemente qualcosa nel provarlo è andato storto. E allora Michael ha fatto, ma che cosa hai fatto? Hai rovinato vent'anni di lavoro, ma ti sei mosso, hai toccato per caso qualcosa. E invece Rudy Zerbi gli ha detto, eh sì, vent'anni di galera, altro che lavoro. Questa è stata la risposta di Rudy Zerbi senza mezze parole. E questo è stato diciamo il sunto per farvi sapere quel che ha fatto più scalpore durante la puntata. Se ci sarà altro ve lo proporrò volentieri in un altro video. Per ora, per questa notiziosa è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata a tutti.